Un affetto, un abbraccio a tutte le persone che ci seguono, dalle case di cura, dagli ospesi, dalle case degli anziani, tutti quanti vi saluto e vi mando un grandissimo abbraccio, specialmente a quei ragazzi che sono colpiti, veramente danneggiati. Poveri ragazzi mi dispiace moltissimo il percorso purtroppo, questo è il mondo e non si può fare niente, c'è solo cinicità, c'è gente che pensa solamente al proprio orto e basta, non vi illudete, il mondo è questo, non vi potete illudere, non ci sta salvezza, se non pregare, pregare, credere in qualcosa che non lo so se ci volete credere, se no fate come ritenete opportuno. Certi i momenti sono durissimi, però nessuno fa niente, quindi è chiaro come congetto, non vado oltre perché se ne potrebbero dire tanti, però ricordatevi siete solo dei grandissimi sozzoni, perché vorrei capire, un uomo, un deputato, domanda, faccio una domanda a te che sei giovane, io ce l'ho nel cuore giovane, ma 8 mila euro, 9 mila euro al mese, 10 mila euro al mese, da me stesse per campare, per farlo deputare. Guarda, a me me ne basterebbe anche un terzo per campare. Ma io ti sto cercando di far, a che serve accumulare tutto questo mille denaro? Se la vita è eterna non ve la potete comprare. E poi ci stanno un paio, mi dicono che il signor Veronesi, vecchio, decrepito, sarà pure una persona intelligente, che conosce, i sacci che mi hanno detto certe persone che non potevano raggiungere per una periodo, 500 euro una visa, 500, un altro signore da Milano 200 euro, ta ta. Cioè la mia domanda è una, ma voi non avete fatto lì dottore perché seguivate una fede, uno spirito, capito, di umanitario e vi discorrende. Ma che tutti questi soldi, domanda, che cazzi ci facete? Beh, saranno anche fatti. Ma non lo metti in dubbio, ma io vorrei far capire alla gente se ci riuscisce a questo, a cosa serve accumulare tutto questo denaro? C'hanno oltre i 70 anni, non puoi mangiare, non puoi fare una scopata e guadagni fino a tutti questi soldi. Comunque fate quello che vi pare, fate quello che vi pare, cioè il mondo non si può aggiustare. Voglio dirti che tu, gente che non può, che 50 euro si potesse fare la visita. No, non va bene, cioè io non riesco a capire questa cifra da chi è decisa, da lui giù per venire, per avere un consulto da me mi darà 500 euro. Il mercato sono le associazioni, poi loro direbbero, come dici tu nel caso di questa trasmissione, a chi non piace quello che diciamo, direbbero se non ti piace cagni e canale, cioè vai da un altro che ti fa pagare meno. Sì, però certe volte la gente, io cerco, non riesco a capire, io siccome penso sempre in un modo umanitario, caro Sergio, nemmeno fa le curve dei cappelli, capite, mi tenisce dalla curva. Io ti sto dicendo, cerco, vorrei capire questi soggetti, comunque andiamo avanti, il mondo è questo, non sperate niente, non sperate la politica, non sperate niente signori miei, purtroppo il mondo è troppo, troppo cattivo. E' attivo.